Ogni occasione buona per portare qualcosa di buono agli altri, per donare ciò che abbiamo di più prezioso di noi. E' quanto ci insegna il brano della prima lettura di oggi, tratto dagli Atti degli Apostoli. Leggiamo l'inizio. In quei giorni un angelo del Signore parlò a Filippo e disse alzati e va verso il mezzogiorno sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza, essa è deserta. E lì si alzò e si mise in cammino, quando ecco un etiope e un uco, funzionario di Candace, e regina di Etiopia, amministratore di tutti i suoi tesori, che era venuto per il culto a Gerusalemme e stava ritornando seduto sul suo carro e leggeva il profeta Isaia. Disse allora lo spirito a Filippo, va avanti e accostati a quel carro. Lo Spirito Santo suggerisce a Filippo di accostarsi a quell'uomo che stava leggendo un passo del libro del profeta Isaia, di cui però non capiva le parole e Filippo lo aiuta a comprendere quel brano. Questo porterà l'uomo ad approdare la fede facendosi addirittura a battezzare. Non abbiamo bisogno di sentire chissà dove la voce dello Spirito Santo nella nostra vita. Sappiamo che ogni giorno, ogni situazione, ogni incontro può essere un'occasione. Un'occasione mancata perché continuiamo per la nostra strada oppure un'occasione per portare un po' di bene, già solo un sorriso, una parola buona a chi incontriamo. È una nostra scelta, ogni giorno ci si pone davanti, anche più volte al giorno. Ieri vi citavo Xavier Van Thuan, vescovo vietnamita che dopo la lunga prigionia verrà nominato cardinale da Giovanni Paolo II. Van Thuan ha sempre cercato di trasmettere ciò che di più prezioso possedeva, l'amore e la fede per Dio, alle persone che incontrava, addirittura quando viene imprigionato, portando luce ai prigionieri ma anche ai carcerieri. E non lo faceva solo con le parole, ma accostandosi con amore a chi incontrava. Proprio come fa Filippo. Prima di tutto si accosta a quel carro, si accosta a quell'uomo. Quante volte rischiamo solo di sfrecciare accanto alle persone? Le sfioriamo ma non ci fermiamo perché presi da noi stessi, dalle cose da fare, dalla frenesia. Filippo e Xavier Van Thuan ci ricordano che ogni occasione è buona per portare qualcosa di buono agli altri, per donare ciò che abbiamo di più prezioso, però dobbiamo accostarci alle persone, non possiamo solo sfiorarle. Concludo con una citazione di Van Thuan. Fai con tutto il cuore le piccole cose che fai e aggiungo impariamo a mettere cuore negli incontri quotidiani che facciamo, a non sfiorarci semplicemente ma a saperci accostare gli uni gli altri, a saperci ascoltare, camminare per qualche istante fianco a fianco. Buona giornata a tutti!